Partiamo con... Ah, oggi non abbiamo fatto l'anteprima con Bud Spencer e Telezida, che peccato, perché abbiamo fatto un po' tardi, vabbè. La gente sopravviverà lo stesso. Vabbè, dai, speriamo. Il fatto di... La sopravvivenza, veramente... Sopravvivenza è la parola chiave di questi giorni. Allora, abbiamo vestito a Trinity, quindi partiamo subito, perché veramente siamo in ritardo. Avevamo il progetto di partire alle 12.30, anche se comunque è tanto in ritardo, però... È già vestito, occhiali da sole quando è buio fuori, quindi... Vabbè, andiamo, andiamo e... E cominciamo a fare un po' di cavolate, di sopravvivenze, quindi un fucile come sempre alla mano e via. Io devo prendere un'auto... Direi andando alla mano. Ah, ok. Sali fuori. Sai che mi manca una cosa? Devo prenderla. Che te manca? La mia sopravvivenza visiva. Vabbè, intanto ti chiamo una sopravvivenza, no? No, ci sono due. Ci sono due. Dai. Sono sette giorni che andiamo in che frolla qua... Madonna! Abbiamo battuto il record! Sette giorni, comunque, vabbè, da premettere che... Ce la metteremo tutta per vederci, sentirci. Non gli da dire atta. Un po' più spesso. Anche perché non dipende da me, dipende da lupo, perché da quando ho cominciato a fare partite in stile... E vabbè, è molto probabile, è molto più, diciamo, come dire, sicuro che ci colleghiamo intorno a mezzogiorno, piuttosto che alla sera. Poi, oh, tutto può cadere, tutto può cadere. Intanto, guarda lì, lo metto, ci segnala un nostro seguace, quindi salutiamo come sempre. E quindi, aviamoci a... Vabbè, adesso sta selezionando tutto lupo, perché altrimenti io... Vediamo se entra qualcuno. Qua c'è sovrappiglienza, se ne caga più nessuno. Però se lo dovrebbero un po'... Perché sovrappiglare le vecchie, capito? Ma sì, però noi lo facciamo sempre per divertirci, cioè, con la mia ignoranza, no? Qualcuno può essere invogliato. Poi soppagano poco in confronto ad altre cose, quindi... Chi se ne frega, ma noi lo... Eh, abbettete per niente, però le persone non che entrano. Queste cose che vengono durante la diretta, proprio per divertirci un po'. Quindi, siccome resta tutto un punto interrogativo su quello che sarà nella puntata... Senti, famosi. Vediamo un po'. Non c'è ma se l'ottorcazzo. No, perché comunque... Deve anche togliere la musica. Perché comunque, a quest'ora si sa, si pranza, si... Però, purtroppo, dobbiamo attenerci ai nostri impegni... Non possiamo, purtroppo, decidere un orario... Seguirlo, purtroppo... È così, è così. Forse, vedi, in questi momenti un po' di... Stappare una risata a qualcuno... Perché veramente... Sono dei giorni molto, molto pesanti. Sono molto pesanti qui. Notizie che arrivano a destra e a sinistra... Non tanto buone, però speriamo che si rivolga veramente... Si evolva, scusate. Tutto... Tutto al meglio, ecco. Perché noi... Nessuno. Soprattutto la nuova generazione non vuol sentire questa... Chiedi in fanno, ma che è sta roba? No, esci, 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 esci... Ma scusa, di che si trattava? Non lo so, per cose... E allora perché non la proviamo? Tipo qualche gara, che stronzata al genere. Vabbè, facciamo una qualcos'altro, vediamo un pochettino. Vabbè, ma comunque è tutto da scoprire. Perché, scusa, non lo facciamo? Quello che ci capita, capita. Tanto che vale, due risate si fanno... No, poi entri in attività che fanno schifo e devi stare lì mezz'ora... Ma che per forza, eh, scusa. E poi se esci... E quindi che è? Qual è il problema, scusa? Scorretto, quel cazzo. Non pensi dentro? Vabbè. Va bene, va bene. Oggi... Il recupero ha giù di calo. Bellissima giornata qui, mentre giù al sud, tanta tanta neve. Io spero che oggi comunque sia migliorato giù. Che bisogna fare qua? Bisogna ascoltare sta canzone. Che immagini? Una cosa tutto un po' basato sulle canzoni. Ti piacerebbe? Entri in macchina, ragioni, per... Selezionare la canzone che tu... Sì. Hai capito di che cazzo ne si tratta? Vai, Enrico Papi. Dai, sarà banda. Sarà banda. Che devi fare qua? Madonna, che è? Cosa da un'altra volta? Madonna, madonna. Fabio andare a me qua. Non c'è la macchina tua? Non lo so, dove sta? Guarda sulla mappa. Guarda sempre sto coso qua. Vai sali con questo, sì. Sì, sì, forse è meglio. Oh, c'è la fila, eh. Una si chiama Toxic. Mi piace. Mi piace, mi piace. Cioè, ci intendiamo tutti e due, no? Vabbè. Raggiungi la stazione di polizia. Ma non penso che ci arriveremo con Toxic. Comunque, tutto può accadere. Di brutto. Mi sa che non lo raggiungiamo manco la metà strada. Ruba un veicolo a bersaglio, quindi, in pratica, quando uno si fermerà, scendita la macchina, prendi uno di quei veicoli. Ah, ok, va bene. Che sono dei puntini in blu. Non lo so perché, questo è andato dritto. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Fermo. Non scende adesso. Ho visto che stai che scende. Eh, stanno qua dietro. Oh, oh, oh. Vabbè, questa è il coglione. Il fatto scendevamo lì. Dai, facca. Eh, se fa. Aiuto. Non lo so che sto facendo. Ce la sparà. A loro. Scusa, è di restare. Dove ho visto un'acchio? Si fa, mi restare. Io veramente sono distrutto. Oh, guarda, guarda, ce la polizia. Sono mareggiato, distrutto. Non so manco da consigli. Cioè, talmente. Ciao, mi è arrivato. Ciao. La scarsezza, talmente alta. Non so manco da dove ho cominciato. La scarsezza. No, perché non ti fai guida la macchina di un'altra persona. Ma scusa, ma perché qua? Tutta sta polizia. Ma che cazzo? Ma giochi in ora a settimana. Vuoi che te dico? Dai. Senti, va. Eh, sì, meno l'aria, è un meglio. Un'altra arma qua. Non la posso prendere. Ma dove stanno queste macchine? Polizia. C'è sta là la macchina. Dovresti sparare ai poliziotti, rubare la macchina. Ma è una cosa fatta scientifica per te. Perché non sai manco do cazzo stai. Stai zitto. Poi capito, vedi che non stai piano, continui porco che. Dai, dai che. Dai che. Dai che lascia i rimiri. Ma come che si fa, eh? Dai che lascia i rimiri. Ma scusa, ti spara così? Ma mira, spara, sai che lo spara. Mò bestemmio, vanno a sette anni che non bestemmio. Ragazzi, ma forco che adesso. adesso ma non sono questi i tasti allora no e mi sono toccato sempre le stesse cose cioè se poi andiamo a vedere i video vecchi ogni volta sto sempre a dire la stessa cosa cioè devi tenere mirato e sparare sì ma non sono questi due sotto e sopra sono paralleli sono quelli sotto e questo che fa visione fallita c'è costa cazzo da 12 io sto veramente a vecchia tre giorni in un giorno ogni giorno passato in un posto dove ci sono diecimila poliziotti c'è ma col tempo di nasconderti che devo fare io che devo fa se magari sapessi spara spari e poliziotti non abbiamo anche una scuola tanto se faccio prendermi con cd ma come se va qual è il tasto per prendere l'arma mentre stai una spara con il sangue di schizza e allora non mi non mi criticare mentre io gioco faccio io da sole non mi dire niente hai fatto bene bravo macchina verde ma poi tu c'è la macchina al dietro di te devi rubare la macchina a sovraggio ne vado dalla sola mi vado a particciare dalla sola va destroy the ring dove stanno questi cerchi va dietro stanno dentro questo edificio qua che tu stai a far giro e dove sta scusa che edificio qua stazione di polizia io voglio trovare un posto dove mettermi magari più fai domani ma vedi quanti poliziotti è impossibile ho la pieglie fammi cambiare l'arma cambiare l'arma questo com'è che si fa mille sporco ammazzate un po' almeno in pratica la macchina che dovessi rubare è quella nera là quella nera all'angolo dell'altro marciapiede guarda è carlotto no non si vede dove sta? sta sulla lina l'altro marciapiede qua? è super l'edificio gira a destra diventa dentro l'edificio dentro la cosa no non è questa l'edificio tu mi hai detto che è questa e che cazzo non so non è conosco tutti gli edifici si no continua continua aspetta che voglio vedere chi viene e chi viene? la polizia viene ma come si prende qua? come si prende? dimmi tanta fatica per niente ma vedi che poi alla fine ci sono riuscita sono arrivata a questo punto ma qua come si vede questa è una mia ti piacerebbe questa macchina ma dove sto io scusami? sei morta basta ora devi vedere gli altri ma devo vedere a questo qui ti piacerebbe sinceramente questo scalino che c'ha dietro no il colore si ma tutto squadrato vabbè è interessante con questa missione questo è tolto le stelle e va a consegnare la macchina voglio vedere che fa guarda un po' lì davanti ce ne sta un altro però è rimasta la macchina tua perché erano quattro macchine che ci posso fare tu non mi dai l'arma qui ma più che altro perché te la sei tolta? non lo so schiacciavo i tasti così per scaravanzia per scappar via ok non posso qualcun altro ha distrutto la macchina ma perché le distruggono? senti madonna mia non c'è stato ultima volta qui basta ultima volta basta massimo tre se va bene va bene altrimenti niente perché poi veramente diventa una rottura sì poi qui finché si carica due ore e via eh vabbè 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 sai mettono proprio in condizione senti io non voglio andare con questi per forza c'è una macchina tua qua fammi cambiare l'arma così scendo già come si fa qua? sì ho spinto ti hai spinto quello? ok no no il cannone di capodanno buono il cannone di capodanno ok oh vedi a questo di me ma è che sta sparando la polizia? sì ma io sto entrando non entra non entra non entra non entra la vedete questi carini buono? queste sono le macchine che devi rubare eh cioè le devi rubare un e meno va bene io mi devo andare a riparare da qualche parte adesso stai allontanata dall'uscita eh lo so però questi qua stanno che devo fare? mi devo andare se diciamo fa zebossetti bella non avete no per me perché non sono rivolto dai aspetta mi devo posizionare per appare qua stanno come va e come va come vedi allora io adesso scendo dalla macchina e più dietro la macchina mia ok ma se circondano stai zitto stai come fa a sparare come si spara come si fa ma non c'è un buco dove tu ti puoi riparare qui infatti questa è una missione tu non ti devi riparare devi essere veloce fatta in strada sparando prende la macchina e scappare ma come fai se ci sono diecimila poliziotti puveru gabbiano puveru gabbiano è vero poveri noi poveri noi no è che rango ma forse lo zero che domande sono rango intorno al 20 ma stai scherzando che bene sì perché comunque due qualche cosa aveva fatto pure la ruota al casino da regalato rango ma sei ligure cioè in pratica questo modello è ruba tutte e quattro le macchine no per piacere no per piacere ma questo ad esempio io no no ma io ad esempio di dove sei bossetti dove sei hai messo una faccia no per di di no ho detto ok forse non è talmente mica no è sì sì magari se ce lo scrivi forse è meglio perché l'immagine vedo una faccina che fa così col dito mi sembra di no è il pollice alzato poi poi non lo so aspetta accettano scommesso ah sì 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 è vero c'è il pollice pensavo fosse a di torino di torino perché comunque no vabbè va beh anche tipo matera no c'è sempre l'accento un pochettino pugliese che comunque quando si è un po vicino da torino no vabbè dico io ma sei zitto non capisci niente non sai neanche dov'è matera che al confine con la puglia sai zitto la matera d'accordato a matera sono ad esempio un'ora che vuoi è lì c'è comunque non è che hanno il loro accento è sempre c'è sempre l'influenza pugliese no ma che caso vabbè no per dire che torino vabbè basta noi siamo del centro e sud andrea so pugliese andrea e latina c'è presente la città di nascita di lino banfi faccio sempre questa domanda ricca riccardo scamarcio insomma io sono sono proprio della loro città quindi che altro giorgino che esce al tg1 noi abbiamo tanti personaggi famosi anche io ero famosa e prima di arrivare qui nel lazio io ho fatto tanti anni di radio quindi è capito a volte vedi si si incontrano proprio e si si invece 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 lupo non niente lui e basta e basta e sfera e basta capito c'è stato tiziano ferro si vabbè solo tiziano ferro ma stai zitto che è bravo stai zitto che bravo a proposito mo si è comprato il figlio stava a leggere no lui è diventato papà di due figli non è non se l'è comprato la pagano l'ha adottato da su non entriamo in argomenti che vabbè si che ragione stava teniamo fuori argomenti dai su ognuno poi io dico sempre queste povere vite meglio sia bambini sia animali meglio con qualcuno che buono c'è i soldi tanti soldi c'è gli acqua e fanno una buona vita che piuttosto in un alfanotrofio buttati lì per strada a morire quindi lo dico sempre la vita è sacra allora lui come tanti altri se l'è proprio comprato c'è affitta la l'utero di qualcuno e se lo sceglie se lo paga e non lo so vabbè sulle notizie non ci sono i particolari comunque vabbè però io dico una cosa sta missione questo le pietre in macchina sì sì no infatti basta io mi stavo già annoiando guarda bossetti noi siamo anche su youtube quindi se vuoi vatti a rivedere pure le puntate ti scompisci dalle risate anche di più perché adesso sto imparando qualcosa però partire proprio da zero fine dicembre abbiamo cominciato e vedere veramente cos'è lo schifo su gta ma sai cos'è allora gta ti dà tanta velocità però la velocità il joystick non ce l'ha se io comincio a schiacciare magari i pulsanti giusti e questa non si muove io comincio a schiacciare pure gli altri e vedere che succede perché io penso che non si muove non si muove c'ha veramente un l'input molto lento mo che devo fare questo short strips mi aspetta e allora mi vado a fare un caffè che poi tra l'altro è forse anche sconsigliato prima di mangiare prima di pranzare ma si 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 mangia dopo cioè si mangia si beve più che altro caffè si beve dopo mangiare sì 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 va bene va bene tu che fai fa 6 bossetti se se ci racconti un po di cose fai anche tu gta ti cimenti in qualche altra cosa sei su twitch raccontaci raccontaci ma perché ti racconta magari non gli vada racconta e vabbè se vuoi scrivere qualcosa nel frattempo che si carica qua scusami allora fanno andare a fare fanno andare a fare un'altra missione qua mo come si si fa qua ma quella che stavamo facendo sotto alla capannuccia comunque vabbè se trovi qualcosa di diverso è meglio voglio sperimentare qualcosa di non entra nessuno a segnalza di sopravvivenza si ma perché sono lunghe sono lunghe in base alla lunghezza pagano pure poco senti a me piacciono le cose sbrigative se va va uno due tre basta finisci passiamo un'altra cosa perché comunque non è ti ha delle cose lunghe ti fa andare a giocare a golf va a golf così ma perché tu ti fossilizzi ti fossilizzi sempre su delle cose che comunque sono sempre le stesse io voglio provare altre cose ma io mi fossilizzo su su cose che ti possono far sparare che è la cosa principale rango 22 ah addirittura ma il rango c'è ti te lo dai in base alla durata di quanto tempo sta su gta oppure per quello che sai fare dai dai piccoli dei piccoli cosi che si riempono i trattini che si riempono all'inizio si riempono veloci ecco perché sta già a 22 più va avanti più si riempono lentamente quindi quando sarai a 100 prima di riempire a 101 c'è volato il tempo ok mo è semplice fai una cosa e vai mo che mi hai messo qua un'altra cosa difficile ma è una sopravvivenza ma non entra nessuno no purtroppo su gta devi stare al passo di tempo ma è tutto rosso che dai su esci tu ma fammi fare un'altra cosa come prima come quella precedente ce ne sono un miliardo ma quello che si incastrava lì con con la roulotte lì ti ricordi come si chiama mamma mia guarda quante peripezie abbiamo fatto in 10 puntate è meglio che non raccontiamo è meglio che non raccontiamo queste sono le missioni quell'altro franchino che va sotto dai metti questa qua si spara dai su qua si spara da due soldi però si spara vediamo mi sa che devi fare da sola alla fine lo faccio da sola tanto alla fine che servono gli altri se comunque non riescono neanche loro ti facile la zumpallera ah vediamo un po' cos'è questo canale non sta rilassata stai da sola sempre di conoscerlo sul canale questo è il canale di los angeles canale di scuola famosissimo su tutti i film esce si masini eh vabbè partiamo va andiamo a vedere dove possiamo mirare qualche guaio c'è il chilometro e trenta è vicino si guarda questo deve mettersi a destra proprio quando passare io guarda quanto è larga questa strada non ti è la metà ma sono le macchine che si buttano addosso ma è che ciò è il miele guarda uno si mette a destra con questa ma se si nooo è lontano sto posto si quasi arriva tutto dritto aiuto 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 nonostante questo devi farciare qualcosa per forza qual'è il problema non si paga niente allora quel puntino giallo è l'obiettivo della missione è ricorda vedo che si sposta vedo che si sposta la portava l'ombrello va a destra va piano va piano quella è l'entrata vedi a sinistra ferma 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 scende 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 è la tua bella macchinetta prendi la tua bella carabina allora fammi ricordare come si prende uno così vai tappicini tappizzi a un angolo in modo che tu possa sparare questa colonna la colonna singola la colonna singola no 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 non è così si però alla colonna singola così puoi sparare dentro quindi tappizzi guarda qua piccicate ahhh e chi è quello là? eh quello uno deve morire subito dai e allora si spara con questi di tenere la mira no questi qua qui sotto così tenere la mira e questo si spara quale con questo? oh quanto con quello parallelo si si vai così mi piace così mi piace vedi? così mi piace così mi piace c'è la cucina a terra però ci sono altri nemici da fuori carica ma quello si è spostato dai no non li vede ti è staccata qua carica l'arma aspetta aspetta forse si sposta eccolo eh ma non li ammazzano come no? e comunque ce ne stanno altri ti ti appizza più avanti dietro quelle casse lì queste marroni eh quelle c'è le fronte c'è le casse le due minuti ci arrivi e te si appizzi brava vai vai ti ammazza qui ok c'è sta un altro vai a destra spostati a destra così guarda così vedi un po' se li vedi no non vedo nessuno trova a mira vedi se mira qualcuno no non mira nessuno e allora niente devi spostare e te appizzi sul carattolo aspetta faccio così dietro a karma lo dice oh spara 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 non rimane così è scoperta a modo di sparare eh ma poi va alza un po' la mira ah ok all'altro l'altro è rimasto dove sta? mettere qua dietro mette la pizza la pizza la pizza brava e questo mi sa che sia dall'altra parte quindi va a sinistra sempre rimanendo abbassata sta di qua sposta verso sinistra così no no chi si trova? vai 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 ammazza ok hai ammazzato tutti adesso prendi la cocaina e quel puntino verde ci stai vicino lo devi cercare per te ci devi andare sopra a sti cazzo di puntini ci devi andare sopra qua eccolo quel pacco ok torna la macchina tua e porta il pacco a a qualcuno che cazzo ne so a chi a Gerald a Gerald a Gerald va bene questo è un momento storico perché è la prima missione che riesce a fare così pulita no sappiamo se ci sta lo spettatore sta assistendo a una cosa un evento unico dopo dieci puntate però non è detto perché magari te potrebbero non seguire ma già che stai andando vabbè devo fare il tuo marzo poi puoi ripassare qua va bene va bene va bene questa è una missione che hai fatto a livello facile mo se vuole puoi arrivare a livello medio no 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 devi fare un'altra diversa ma però vedi con queste ti impari eh queste facili senti fatti una missione un po' più ma come stai andando oh non lo so ma che cazzo vai e pensavo che crollava sto palo io sento e può se crollava sto palo se non va più la cosa la tram tram e togli ma dove mi ha fatto arrivare quello ma perchè va bene dove è qua questo si ma entra ma si lo con la macchina a chi non guarda veramente e non entra non entra non entra perché non entri non entra perché non entri no ma non fai mia polizia no guarda la con eh l'ho tolta qua c'è qualcuno eccolo ahhh qualcuno c'è ma tornami chi è? un rapper per tieni compa te lo do con grande orgoglio perché è stata la mia prima missione riuscita ciao non mi dai i soldi ma non te da tanto già la missione paga poco poi a livello facile ma che bello leggere vittoria 7000 doll beh dai mi vado a comprare un rossetto che qua costano costano un rossetto di diorba poi scegliere un'altra allora un film di droga so che ti piace tantissimo un film di droga ma appena la vedi so che sprizzerà gioia si dai vai mettiamo l'altro livello magari però mi deve dare un altro posto sempre quello eh no ma un altro eh meno ma è un altro che hai appena nominato ah si i quali ahhh il canale lì il canalone wow ma fammi andare in un altro posto ce ne sono 6 come fai eh o normale no metti normale dai questi ti inseguono poi eh vabbè dai metti facile ti ricordi l'altra volta stavo davanti a uno e io non riuscivo a spararlo a un centimetro dal naso e quello gli stavo come uno scemo con l'arma in mano manco lui mi sparava a livello principale e vabbè si voglio iniziare la zona ma perché la posso fare anche con qualcun altro si ma non entra nessuno è inubile che ti metti a inviare queste sono missioni che sono di 8 anni fa ma devo salire sulla macchina non mi ricordo se guarda io qua c'hai due opzioni o li prendi gli assalti frontalmente però non mi pare che sei tanto in grado oppure li pida sopra come al solito senti io devo andare su quella strada e devo devo loro stanno di fronte a te dall'altra parte si dall'altra parte però io adesso rischio allora facciamo così qua meglio che non parlo io farei una cosa attraverserei il fiume con la macchina non dovrebbe rompersi no io voglio fare un'altra cosa che è un po' più complicata però magari questo mi preoccupa si te che fai una cosa più complicata mi preoccupa fammi girare bene le ruote gira bene no aspetta da l'altra parte aspetta aspetta se vai in là non dovrebbe succedere niente no no però non era di qua aspetta 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 io sto qua aspetta che fa aspetta quanto deve essere allora per niente fa due metri in una salita e basta sta zitto zitto guarda io voglio fare le cose senza ma tu guarda aspetta aspetta si è appiccicata al muro con un ragno allora calma eh calma vedi a tre ruote eh solo io lo so fare bello guarda eh anche a due forse a due ancora allora ma come si è in giro ma guarda no mi sa che non ce la faccio senti spegni dai su basta stai ne so tre ore che sta qua ferma devi fare sta cazzo di missione o no su dove è da l'altra parte va via da l'altra parte via da l'altra parte ok e volevo salire ma dai a mia che devo fare qua si è distrutto il veicolo come sei distrutto ma ci hai messo tre ore attraverso a sto cazzo di canale dai scendi a piedi fammi scendere dammi qua si ruba il joystick ma che vuoi di che massimo ma che vuoi sono un'assicurazione non è frega niente dai andiamo via ma dove cazzo stanno stanno della loro da dove hai detto sulla trasponda si ma stanno della si girate a destra a sinistra stanno ma li vedi il puntino verde sui nemici c'è cinque ore con la macchina ferma e poi non c'è manco un posto dove ripararmi prendi la carabinia ecco c'è la carabinia si la carabinia e se non c'è spuglio è stato che io posso imparare qua tra l'altro mentalissimo ma non ti ripara mica là ti spara o non c'è spuglio ma vuoi dire che non c'è niente se tu c'avi fucinato cecchino ti mettevi qua eh li facevi uno a uno però non ce l'hai è troppo lontano perché c'è un rango basso no per il cecchino va bene qua va davvero perché ingrandisci fai lo zoom ma non c'è il cecchino quindi è una cosa che sto di così no ti sto dicendo perché c'ha il coso lì ah uff di nuovo c'è coso di carnevale penso che questo sia buono ma sa dall'altra parte del fiume ma perché mi hai fatto vedere qua non c'è lì non c'è lì ma che è io se andavo dritto mi trovavo mi trovavo dall'altra parte vabbè ma vabbè ma vabbè una volta che sei la sulla trasponna non sai che fa perché stanno coperti dai container loro no no da questa parte non ci sono mai stato va 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 te lo meriteresti un po' va che hai fatto non si vedono di qua non riesco a spararvi qui no troppo lontani Qualcuno lo piri pure, pia l'empaio, dai, che si li piri, vedi se li mira, mira soltanto senza sparare, no, mira soltanto senza sparare. E come si fa per mirare? No, non li piri, non li piri, sono molto. E qua? No, devi avvicinarsi, non so che lontano. No, vabbè, è peggio. Manco li vedi qua. Dai, scavalca sto coso col quadrato. E devo uscire dall'altra parte? Non puoi scavalca, dai. Qua ha il solito muro, dissi, ce la facciamo. Sì. Riesco a sparare, a prendere il pizzo di. Vai. Metti, che mi devo avvicinare di qua. Però se ti esponi troppo, devi via, non ti ricordi, te li mette in punta. Eh, mette un po' più, vai. Mira. E spara. Vai. Muzzle. 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 Dano grezzo. Ma le cinza unica. Eh, devo sottostare la visuale. Eh, questo qua, ok. Non è morto però, devi sparare ancora. Non è morto, devi alzare. Non è morto. Non è morto, spara, non è morto. Manco quell'altro. Ma chi? Non li sto a vedere. Questi che stai a stand, che però si rialzano perché insomma. Ma io vedo dei cocchi che passano da dietro. Dai, questo è morto. Quando fa il pallino blu, è morto. Se non lo fa, vuol dire vivo. C'è qualcosa che fuma qua. C'è un cimini. Mi sa che devo scendere. Scendi, ce ne sta uno. No, due su. Qua c'è quello che... Porco, è sempre il solido questo. Che schifo. Pizza da po' fa. Aspetta, aspetta. Ammazzalo, ammazzalo. No, e sta sparando. Ma che è ammazzalo lì? Non sa che non è. Ma ce l'ho trovato. Eccolo, eccolo. Eccolo, che si è messo lì. Ma è più. Vai di recessi, va. Oh, oh, oh. Eccolo. Aspetta, aspetta. No, 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 no. Non lo vede più. Non ci sono anche. Ti sa allontanare un po'. Madonna, stimo, c'è qua, vada. Pizzate. No, vedi appizzata? Cioè, sto anche io di lato a vedere così. Se si vede qualcuno. Madonna, vada. Allora, fa il giro del container un po'. Vada a destra. Vieni qua, vai. Ti dimi, ti ha il lato corto del container. Ti ha appizzato il lato corto. Staccare da qua e appizzare il lato corto. No, no. Pizzate. Vai, ammazzati, ammazzati, ammazzati. Mira però e spara, non lo sparare solo. No, senza sparare solo, non sai mirare. Il muro, eccolo, eccolo. Aspetta che esce, ammazzati, 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 ammazzati. Adesso in fretta però devi piazza cocaina e sapettela. Allora, fatti lasciare l'arma. Che non è mai una buona idea, però vabbè. Comunque dove sta? Ah, l'hai piazza? Pia la macchina, questa macchina. Ok. Ho chiuso proprio il portello. Visto? E devi correre. Sali sopra. Madonna mia. Devo salire sopra? Supera il ponte? Sopera il ponte? No, supera il ponte. Supera. Vedi quando c'è un'apertura, puoi salire. Magari. Qua, 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 qua. L'hai superata. Devi fare frettata, te sei quando... Dove sta l'apertura? Sta sulla salita, qua. Chi è la salita? Chi è la salbrava? Vai. Mamma mia. Mamma mia. Aspetta. No, vabbè, non è possibile. No, no, no. Non è possibile, non è possibile. Ma come è andata alla parte dove c'è l'apertura? Dove sta l'apertura? Vai, scappa, scappa, scappa. Qua. Sì, è il muro rotto. Dove c'è il muro rotto? È l'apertura che cazzo, non è il muro rotto? Sì, lo scusa. L'apertura che è il culo rotto, che è? Sarà il muro rotto, no? Ma ha lasciato la cocaina per terra, valla ripiata, affronta tutti. D'altra la sponda, vai, attraversa. Di qua? Sì, mettete nella carabina. Mettete la carabina, c'è la pistoletta del cazzo. Vai, vai, scappa, scappa, scappa. Non va sopra, sto cazzo di puntino verde di merda, sopra sta, perché non lo guardi? Poi devo fare qua. Vai, scava al cavo quadrato, vai, vai. Bravo, vai, vai, vai. A destra sta. Ma come qua l'hanno buttato? Sì, qua ti hanno ammazzato, vai. Più a sto cazzo di coso verde. Che non si vede, dove sta? Fa girare la macchina. Fa girare la macchina. Vedi un po' stare, va, va avanti un po'. Ci ria da sopra, Cristo. Va giù, va sull'erba. No, non sai su, va sull'erba. Non riesco a vedere la miscola. Vai sull'erba. Vai sull'erba. Vai sull'erba sta sto coso, dai. Non mi spara, no. Va c'è sopra, sopra la puntina verde. Sto sopra, guarda. Vai, 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 vai. Vedi la macchina. Guarda. Vai, vai, vai. Scherciamo tutti i tasti possibili. Adesso non tornare sul canale, vai verso la strada, lo sapevo, troia, lo sapevo, voglio morire, porca troia, voglio morire adesso, lo sapevo, porca troia, lo sapevo, gli stanno sparata al canale, tu cazzo, va nel canale, vai, cerca la strada, su, pal, tutte le ha fatte le palme, ne manca quella a mezzo, vai, no, piegola a mezzo, guarda che roba, guarda, 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 stai andando sul canale, stai andando, butta giù quella rete, Ma qualcuno mi aiuti, porca troia, qualcuno mi aiuti, qualcuno mi vede Twitch, anche non in diretta, mi aiuti, mi scrive una cosa di solidarietà, dai, di dove sta la strada qua, per uscire, secondo te se segui i binari la vedi la strada, e allora porca troia, va piano e vedi, cerca di guardarla, c'è un buco di girare a destra qua, ma si che c'è sta, la rete si butta giù qua, Stai a cambia stato, proprio, dai, di dove devo girare qua, ma dove devi girare, ma dove devi girare, per l'inferno devi girare, porca troia, scemo, ma saliva pure il treno, vai, vai, vai sul canale, vai, tranquillo, che c'è nessuno, come vai sul canale, di qui, e qua è chiuso, ma dove vado, ma mi vuoi dire, Ma usa un po' di fantasia, la strada sta là, la città sta là, dovremmo andare là in qualche modo, no, sul muretto, trova, allora, trova un reticolato, non ce n'è, non ce n'è, che non c'è il muretto, E dove sta sul reticolato, guarda, ne hai superati chilometri dei reticolati senza il muretto, chilometri, va bene, dai, è lo stesso qua, guarda tu cazzo, sta a naso, a GTA 4 sta arrivando, Che cacchio è questa cosa, arriva il treno, c'è, pure i nemici hanno rinunciato a inseguire, non ce n'è, lasciamo la nata, ragazzo sta a naso, Guarda, oh, arriva il treno, ha visto il treno, è quello di prima, fantascienza ragazzi, fantascienza, E' quello di prima, per fortuna, oh, allora, oh, mo che hai cambiato regione, cercate via la strada, dai, buttate da sotto, su, vai, da sotto, oh, mo si, due chilometri, vai, Oh, signore, meno male che la benzina non si paga, con l'aumento, guarda, perché meno male che pure le macchine non si pagano, guarda come cazzo le riduci, E tra l'altro la batteria, il motore è dura, non scoppia, capito, secondo me nel prossimo GTA queste saranno delle difficoltà che metteranno, Può essere, ma se metteranno la benzina è la rottura dei coglioni, dai, che faranno il più reale possibile, secondo me, Cioè devono ampliare le cose, però non devono essere troppo dettagliati, se no alla fine vanno tutti a giocare in RP, come cazzo è lì, basta, la fanno prima, Cioè la benzina sarebbe la rottura dei coglioni, secondo me, infatti, ma sai guardare i soldi per mettere ogni volta la benzina, Bocca a destra, qui, qui a destra? Sì, sì, Voi giro a sinistra, sotto il ponte a sinistra, E non gira, aspetta, non gira, per un semplice motivo, perché tu non giri, vedi che gira, ma non giri, Di qua, vero? Sembra di gira? Sembra, vabbè, poi vediamo. Vabbè, pure questa missione l'hai fatta, eh? Eh, non è male, devo dire che qua. L'hai fatta, veramente, è uscito in giro, guarda te. Ma che è, la chiesa che sta vicino a te, vedi, mi si chiama Franchino? Sì. È vero? Sì, sì, il quartiere mi sembra questo. Mi sembra, sì, ecco lui, ma devo andare. Qua a sinistra, a sinistra, lo hai superato. Guarda, ti do un consiglio, scendi a sta cazzo di porta chiave, per diventare una macchina. Non c'è, 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 bocca a destra. Ma sbatte pure a piedi, incredibile. Certo, non ho fatto un viaggio del genere, ma sbatte pure a piedi, porco me. Aspetta, ti sai che qua. Devo andare dentro. Devi trovare un po' sotto se entra. Qua. Qua è chiuso, qua è aperto. Ah, ok. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, eccolo, di nuovo lui. E so due, eh, compà. Pesa, pesa, vabbè, ciao. A posto. Vabbè, io penso che dopo sto parto non posso più fare niente. Mi metto a dormire sotto le coperte, chiudo una serrande, non voglio altre luci, non voglio più televisione. Va benissimo, va benissimo così, perché ho fatto due vittorie oggi, eh. Quindi prima avevo stappato lo spumante, ma ci andiamo a mangiare il risotto a posto. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.